Ciao ragazzi, cosa ne pensate dell'utilizzo e dell'abuso dei filtri nelle fotografie sui social? Eh, ma, ti dico che sinceramente non c'è un cazzo, cioè, nel senso, potrà, ehm, potrà te, dai, cioè, sinceramente che non è chi me la dà che, e dopo potrà, potrà, sì, me generalmente non c'è un cazzo di me, ma è stato così che, eh, al saperti via con chi la urlè, cioè, sinceramente, no, potrà, diciamo, ehm, che me la dà, bravo, coraggioso, assomia, guarda che la colpa non è la mia, non vedi più neanche le rughe con l'attaccatura di capelli, potrà figa, ma sono asfaltate, quindi non bisogna darglielo, non si può, osti, quindi non ti piacciono, no, a me proprio non piacciono, potrà, non so cosa dire, cioè, secondo me, sono ridicoli, ma dai, dove l'ho problema, ho capito che la figa ti chiama, però, te tiri sui tombini, figa, eh, eh.